Già Ampitec, X murri e royalize su Battles Feedback Company 2. Oh mio dio. Ok, non sto pilotando io molto probabilmente. Oh, sto pilotando io. Sì, sto pilotando io, sono fortissimo. Io sto sparando. Ok, spara. Che paura. Bingo meno di tutti. Ok, adesso posso avvisarvi che io non so pilotare il video. Perfetto! No, dai fatti! Vei dei! Dove cazzo noi? No, no, no! Dici che dobbiamo scendere? No, 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 no! Vedi dei, vedi dei, vedi dei, vedi dei, vedi dei, vedi dei! Oddio, 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 un albero. Vedo gli alberi troppo vicini. Ok, si riparte. Ok, io li abbatto con la menina. Beh, se vede in sto moto non c'è pericolo che ci prenda il raso. Perfetto, lascia la zona. Guarda, gira, gira, gira. No, no, no. Aspetta, ericottero. Perchè non giri. Perchè non giri? Ma dica, ci sta andando! Aspetta, ci sto provando, ci sto provando. io vedo te con il cecchino ok ok, niente no non mi ruolo caro sono uscito sono morto non sono morto, sono vivo io adesso corrode io sono fedele al pilota io sono un pilota proveto di elicotteri si, però intanto cc 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 che testa di cazzo sono morto ci stanno sparando, muri, sai? ok, muri è salito muri è salito muri è fatta mente salita dai, incominci a registrare muri è salito, muri ma quanto cazzo di fumo sto facendo Dio bello quando che la pianti? non lo so beh, lo so, non lo so, non lo so, non lo so aiuto, aiuto io sparo ah, chiuso i sacchi, chiuso i sacchi no, aspetta, e poi finisco l'emunizione orca buttata con la pistola con la pistola ok benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Battlefield Bad Company 2 2 oh, che cazzo che mi sparo io credo io ho portato massacrato tanto per incontrazione e quindi quale miglior gioco per e inaugurare diciamo questo nuovo pc che avevo preso qualche gameplay su qualche nuovo gioco ed ecco qui batte feedback compi 2 non è nuovo ma per me nuovo quindi sono il mio betto come tutti come tutta la combriccola dopo tutti ci sono le porche oltre a tutti noi vai aspettare aspettare troppo firmato lo sfiga che rimane indietro per fare la barca e la fila dottore sopra che per fai così dove vado? boh vai verso i nemici io sparo bombe sua puttas ah non, 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 non non, 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 non non, 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 non non, 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 non io sono morto su quella barca, su quella barca, su quella barca su quella barca che testa di cazzo madonna al nostro minacchia testa porca di quattro c'è in movimento di colore appunto è sempre colpa su una testata facciamo un pronostro di nostri risultati diciamo la ora per il 0,5 popolare nella casa per dios perchè se allora la cunzano volete di che soppessi vista poi la partita non c'è l'elicotterno di merda morrezzi san d'amore però vediamo solo scusa che sono molto più potenti minchia testa tra l'opera guardo che diamo vabbè io vado a vederlo in qualche modo orca vacca che potente non riesco a salire fermi ok io credo i fermai qua dove cazzo siete scusa guardo che siamo fermati su una riva ossia si è molto baggato grazie vai 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 siamo potenti oh cazzo c'è un morto morto bella no l'ho ucciso io questa è comprazione vai muon re vai 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 tutti massacrati quasi ah io sto prendo un po' di kill non voglio credere mi ammazzo da solo sicuramente ma come cazzo ho fatto ok abbiamo distrutto la bomba troppo forti siamo ah ma noi siamo attaccati perfetto io sparavo in me cazzo cazzo stiamo presto e siamo stati fortissimi cazzo abbiamo progetto disinnesco oddio boh oddio non vuoi smettere di esaltarmi e pilotare i licotteri come solo io so fare cazzo sta arrivando un po' di gente oddio oddio sto muovendo ooooh qualcuno mi reali mi qualcuno mi reali non so esplode la bomba se mi fiondo giù con l'elicotteri non è che cosa buona che potrei fare ma io ho paura a venire cioè mi ammazzano dai che vabbè ma ce ne so non fatti aspetti ce ne sono troppi ecco si no no dai dobbiamo giocare insieme si l'ho ucciso zitto ah è così aspetta ah vabbè tu ti sei spawnato in modo assurdo vediamo un domodonno mi serve vita mi serve vita vieni qua l'ho piazzato ce ne sono due qui ho gestito che cazzo che cazzo un cecchinazzo questo è una scimmia oddio vedo la scena del cecchino perfetto andiamo su A per favore ho paura cosa hai fatto dai andiamo su A sto andando su A lascia ancora sto andando su A cecchino sta attento l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso cazzo ok dai stanno andando su A sinistro cazzo 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 sii ne sto uccidendo un paio quella della tastiera e la sinistra oddio ne sto facendo un bordello me ne sto uccidendo un bordello ho planato vai è fortissimo Murri io tipo ho ucciso un paio di cecchino un paio di gente che campi porca puttana sono morto per non dire altro cosa fai qua Royale devi andare a uccidere iiiiiiii Amore Rory scappa di brutto Murri scappa di brutto Murri non morite non morite non morite mi sto spawnando un video VIT vi sto spawnando un video VIT a me a me a me io sono morto ixmourri resisti ok ci sono tieni vita dove cazzo sei ucciso attento che entra da destra da destra no dietro dietro di te portata puttana te l'ho detto ma dove cazzo era scusi dietro di te non c'è ma che testa di ca vai 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 cerchi di co tranquilli li porto io dove dobbiamo andare Ok! Ok, aspetta, fammi spawnare Quando siamo sopra, però, lanciatevi dall'elicottero che forse è meglio Perfetto, vai così, minchia, proprio Buonate su di me! Quando siamo sopra, zettatevi, perché... Ok, intanto, osserviamo il paesaggio... Oddio, mi stanno sparando, che cazzo? Ok, 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 potete restare su? Io mi sono buttato, io mi sono buttato Io mi sono buttato e non saperti il paracadute, ma vaffanculo Guarda quanti lo sto uccidendo, mamma mia! No, sono morto Minchia, pure, avevamo fatti un bordello, prima era una partita epica iniziata Ma poi i royalize fa delle porc... Olè, lui è rimasto vivo, mi sta pilotando Aspetta, aspetta, mi sto spawnando su unità Mi sto spawnando su unità Magari ti stabilizzi e stai fermo Ok, uno l'ho ucciso, bravo, sta fermo, sta fermo che me ne faccio un pari Quell'altro l'icottero sotto, no, no Vai, continua a girare io No, mi sta fermo No, devi girare! Sei malato, stai fermo, mi sto già sparando Ah, che cazzo sparo io all'acqua? Ok, muoviti allora Inizia a girare Ok, allora aspetta... Guarda che forza del cazzo No basta Tira! Che cazzo? Oddio un pistol Dov'è sta isola di Umberto? Non capisco niente Oh, che roglie, un demente T'ammazzo, murri Devi girare a destra Ok, ok, uno l'ho ucciso È il momento di buttarci, è il momento di buttarci Porca puttana! Io mi sto buttando, stavano andando in acqua Oddio, perfetto No, sono morto, vaffanculo No, no, sono morto Ma vaffanculo, che testa Ma guarda, c'è un talebano sulla mitra degli attristi Ma dai Oddio Cristo Dai, qualcuno che spawna bello veloce Io? Spawniamo nella fazione, lì, nello scheramento Nella fattoria C'è l'evicotere, lo piloto io tranquilli Perfetto, vai così, no, mi pare giusto No, no, acqua scooter, acqua scooter, potenti Come si fa a salire? R Vai, io vado col drone Come si spara col drone? Non lo so Venite a salire sulla barca, guido io Aspetta, già vi arrivo Aspettatemi L'aspettiamo o vado? Nono, bastardo, sono dietro di te Bastardo di merda Ok, puoi andare Mimì Si Dai Allargati un poco, allargati un poco Che non c'ho niente in traiettoria Guarda dappertutto, murri Porca puttana, sono morto Sono morto Fai il giro dell'isola che scendiamo la come pro Fatto Ahah, che sto facendo? Non lo so, però è interessante la cosa Perfetto Perfetto Terra, è un cazzo di nevico, io scendo È il momento di scendere È il momento di scendere È il momento di scendere Perfetto, loro me lo dicano alla fine Così io mi impiccico al muro È il momento di scendere Ah, c'è stato sparato Qui Ne ho ucciso una Chi cozzola che ha visto Ok, morono, io vado avanti Non ci sono altro Non, 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 non Mi sto uccidendo un bel po' Siamo su, siamo su, siamo su Siamo su, siamo su Ma morti Qualche sono due Sono fatti due belli per te Aspetta, ti vengono animare Corri Che è bravo Insieme 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 Guarda come nuota No, non ti posso animare Ok, te ho animato Non è vero Perfetto Quando mai? Io sono responato sul Nooo Ho ammazzato Murray Tranquillo Qualcuno mi dia vita Io non posso Sono geniale di mezzo Qualcuno mi... Jumpy quel qualcuno dovresti essere tu Si, infatti jumpy Ma sto turk Spona su di me jumpy Stiamo uccidendo un po' di gente Merda jumpy, merda, merda, merda L'elicottero Vai, vai, vai Vita, vita No, no Mi ho arrivato il posto In piloteria Salite In piloteria What the fuck Perfetto Tira, vai, vai Non sta guidando lui No, no, io riparo l'elicottero al massimo E le tiro gli arrepizzi Ok, uno l'ho ucciso Guarda quanto siamo forti Perfetto Facco tutto Ma perdi Ma questa è una Saphira a guidare Giusto Oh, mi sa che... Oh, mira Parlate l'italiano Dove sta andando Dove cazzo sta andando Tira Puttana Vabbè Guarda, guarda questo sceco Guarda, non lo vedo più Mi è venuto il mal d'aria Non lo so Io farò poco come mi butto Farò poco come mi butto Cioè, guarda che scendo Te lo metto nel culo L'assistenza d'uccisione Guarda, ho riparato, ho riparato Oh, Cristo mi sono buttato nell'acqua Perchè non va verso AC Ma perchè non sta fermo Io farò come mi butto Perché se sta fermo Ci bersagliano di brutto 4,9 Perfetto Oddio, ci sono Quanto qua Io sono a 12,6 Ok, sono troppo forte Cioè, sono fortissima Vai Non lo so Io non vedo nessuno A continuare a riparare Un missile Bravo, Royale Tu continui a riparare tutto Oh, porca vacca Oddio, mi stanno smitragliando Ok, ho fatto di buttarsi Oddio 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 Oddio, Royale, adesso è il momento di Ok, siamo morti È il momento di È il momento di Ok, boom Oddio Orvetto, sono morto anche io Oddio Voi non l'avete visto Cazzo fatto Che fa? No, l'abbiamo visto Non l'avete visto Cazzo fatta Mi sono buttato nell'elicottero Giusto? No, ma porca vacca Sono morto Vai così Ti sei buttato nell'elicottero Porca vacca e poi sei morto Ma no, giusto No, troppo forte Eh, ma le sa raccontare lui le sa Sì, sì. Guido io! Dov'è cazzo? Dov'è? Cosa? L'helico, qui, la nave, la barca. No, 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 no. No, 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 aspetta. Vai! Vai! Sto arrivando, aspettatemi, c'è... Veloce! Guarda, io mi giro e ti sparo nella barca. No, 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 ok, ci sono salito. Ok, guardate, intanto osserviamo il panorama di Battlefield Company 2. Sì, sì, vedrai che panorama ha un periativo in faccia. Ecco, l'hai detto, mi è arrivato un proiettivo di un cecchino, porca puttana, ma dillo! Un proiettivo da sopra! Un proiettivo in faccia, boom! Che testa di merda. Guarda, ho messo su Cristo, è merda. Che brutta puttana, madonna. No, no, io mi ho finito un 5, però... Oh, riusciamo a distruggerà e dopo stop, perché ha registrato un'intera partita su Battlefield per chi non lo sapesse, è letteralmente impossibile, perché durano un'ora. Guido io, guido io, ok. Perfetto. Elicottero o no? No, ho paura. No, seguite un Dix, ma orri, perfetto, io mi affido a lui. Oddio mio. È partita, scelta di... Morriti in merda. Oh, sono morto, scendendo. Ah, perfetto, non so, scusa, ha perso. Olè! Comunque, comunque, ragazzi, questo era... Batte e feedback, compri 2. Se il video vi è piaciuto, ve ne proporremo altri in futuro, sempre con un pizzico di sarcasmo. Adesso vi saluto, la Già di Tecch è tutto. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!